Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Difficile che l'allenatore del Palermo, Bruno Tedino, calatosi perfettamente nella realtà siciliana, abbia scelto di citare Tommasi di Lampedusa ai suoi rossanero nel corso di questa settimana di preparazione alla sfida di lunedì col Foggia, ma il tecnico trevigiano sembra pronto ad indossare le vesti del gatto pardo. Tradotto liberamente, se il Palermo vuole continuare a lottare per la promozione diretta, deve cambiare necessariamente non tutto, ma sicuramente qualcosa a livello tattico. Escludendo la serataccia di Empoli, il Palermo, targato Serie B 2017-2018, è una squadra solida difensivamente, ma di scarsa resa offensiva. Pochi palloni arrivano alle punte, o forse sarebbe meglio usare il singolare, riferendosi al solo Nestorowski. Ecco perché negli ultimi giorni si starebbe delineando un cambio di modulo figlio anche delle assenze e delle squalifiche. Difesa 4, con due mediane a fare da filtro, tre trequartisti e ancora una punta, che avrà però la possibilità di sfruttare le palegol create dalle doppie catene di destra e sinistra. Fondamentale per rendere tutto questo possibile sarà recuperare in fretta Rispoli. Ieri l'esterno ha svolto una parte di allenamento col gruppo per poi dedicarsi sia ad uno differenziato e alle cure dei fisioterapisti. Da sciogliere il nodo sugli esterni offensivi, se Trecoschi appare sicuro di uno dei due posti, per l'altro la scelta di Tedino dovrà cadere su uno, tra Lagumina e Moreo, entrambi scalpitanti.